Sì, credo che non siamo partiti benissimo e soprattutto i primi 20 minuti, prima mezz'ora abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla perché era una squadra molto organizzata e poi appena ci siamo messi a posto in campo credo che avremmo anche meritato il pareggio, soprattutto nel secondo tempo quando li abbiamo schiacciati nel loro metà campo. Purtroppo non è arrivato, addirittura è arrivato anche il gol del 3-1, però purtroppo il calcio è così, ci sono tanti episodi, appunto la loro è una squadra molto organizzata, è andata bene a loro questa volta. Sabato a Reggio arriva il Catanzaro, con che spirito ci arrivate? Ci arriviamo sempre con lo spirito combattivo perché è una bella sfida, a prescindere da come finirà, però siamo contenti di affrontare un'altra squadra che ha fatto un gran campionato e quindi vogliamo metterci alla prova anche per iniziare ad alzare il livello anche in vista dell'anno prossimo, quindi siamo contenti di affrontare queste partite. Purtroppo da quello che ho capito servirebbero 4 gol di scarto e vabbè vediamo dai, noi proviamo a fare il massimo e poi vediamo quello che succederà.